Dottor Alberto Riva, direttore di commercio di Lecco e della sua provincia, componente della giunta camerale della Camera di Commercio che recentemente ha eletto un nuovo presidente dopo che il TAR aveva annullato la nomina di Vico Valassi. Com'è andata questa riunione? È stata una riunione senz'altro positiva, abbiamo registrato il passo indietro del presidente Maggi che era l'altro candidato è stato ringraziato per il lavoro svolto fino ad oggi l'ingegnere Vico Valassi e tutte le parti sociali, tutte le forze economiche hanno convenuto sul nome di Daniele Riva, presidente di Confartigianato, il quale è stato poi eletto all'unanimità presidente della Camera di Commercio. La Camera di Commercio di Lecco è chiamata però a decidere o a l'aggregazione, l'unificazione e l'accorpamento con altre realtà. C'è già qualche linea di tendenza che si può manifestare, che si può esprimere? Ma questo è sicuramente un tema che dovrà essere affrontato dal prossimo consiglio, diciamo con l'unità ritrovata. Per quanto riguarda Confcommercio Lecco, noi auspichiamo un accorpamento della Camera di Commercio con Como, poi, e quindi questa è la condizione minima, dopodiché si può guardare con favore a Monza e anche a Sondrio, perché no? Per quanto riguarda il futuro immediato, sono già previsti delle iniziative di questa rinnovata Camera di Commercio di Lecco? Stiamo aspettando i decreti del Governo per quanto riguarda la riforma delle Camere di Commercio, dopodiché si deve necessariamente andare a aprire la fase operativa. Questo penso che sia il compito principale ad oggi, chiamati a svolgere quali i componenti della Giunta e del Consiglio Camerale, i componenti stessi. All'inizio di una stagione turistica con la primavera, che investirà il lago, le montagne e le chiesi, dal punto di vista adesso di direttore della Commercio, vi sono segnali di ripresa, vi sono segnali di andamento positivo, di una possibile rilancio dell'economia nel suo insieme? Allora, abbiamo registrato comunque finora alcuni segnali positivi. Siamo ancora lontani dal considerare questi segnali una ripresa sistematica, consolidata, strutturale, ancorché alcuni indicatori macroeconomici confermino una ripresa in atto. Non è proprio ancora così, ma registriamo questi piccoli segnali e auspichiamo che nei prossimi mesi, con l'apertura della nuova stagione, vengono confermati buoni risultati della stagione estiva 2015. Vico Valassi è rimasto in quale ruolo all'interno della Camera di Commercio? L'ingegnere Vico Valassi è consigliere della Camera di Commercio di Lecco.